Non sarà un inizio facile quello dello Spezia per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie A. Poco fa infatti sono stati estratti i calendari, i calendari per quanto riguarda l'intera stagione. Come sappiamo quest'anno tra il girone d'andata e il girone di ritorno c'è una differenza, le partite possono essere completamente diverse. Per lo Spezia lo saranno, tranne per quanto riguarda l'ultima giornata, sia per il girone d'andata che quello di ritorno, nella quale lo Spezia incontrerà il Napoli prima fuori casa nel girone d'andata e poi al picco per quanto riguarda il girone di ritorno. Non sarà un inizio facile come non sarà un finale facile per gli Aquilotti. Inizialmente lo Spezia ha chiesto di giocare le prime due giornate fuori casa, quindi si inizierà con Cagliari Spezia il 22 agosto, prima giornata. Nella seconda giornata lo Spezia andrà di nuovo a giocare fuori casa con la Lazio a Roma. Dalla terza giornata si spera si possa ritornare al picco. Pier Francesco Vici, il dirigente dello Spezia, intervenendo su Dazon, ha detto che spera lo Spezia di poter giocare dal 12 settembre al picco. Sarà Spezia Udinese la prima gara casalinga. Se non dovesse farcela lo Spezia ovviamente giocherà con tutta probabilità a Cesena la prima giornata contro l'Udinese, ma si spera di giocare al picco. La quarta giornata ci sarà Venezia-Spezia e poi due gare casalinghe importantissime, Spezia-Juventus e Spezia-Milan, addirittura una dietro l'altra, 22 settembre e 26 settembre. Qui bisognerà giocare al picco a tutti i costi e si vedrà se si potrà giocare con l'intera capienza. Si va avanti nel campionato con la gara di Verona, poi via via tutte le altre. Come dicevo, fine girone andata a Napoli. Il girone di ritorno nel finale sarà importantissimo perché dalla 33esima giornata in poi lo Spezia avrà partite difficili, Spezia-Inter, poi Torino-Spezia, Spezia-Lazio alla 35esima giornata, Spezia-Atalanta subito dopo, poi Udinese-Spezia e all'ultima, Spezia-Napoli. Saranno tante partite giocate in casa per lo Spezia, ma un finale sicuramente difficile per le squadre che incontrerà.